Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un glitch per salvare gli outfit del CEO O comunque per salvare i giubbotti antiproiettili pesanti che ci sono nel CEO Ovviamente quando avete salvato quel tipo di giubbotto siete obbligati magari ad indossare per forza una maglietta Potrete cambiare la parte inferiore però comunque la maglietta dovete tenere per forza una Quindi avrete bisogno di un amico che diventerà CEO e vi inviterà nella propria organizzazione Una volta che sarete nella sua organizzazione il vostro amico dovrà andare in gestione stile e selezionare dei vestiti In questo caso per salvare i completi che a noi interessano Quanto meno il gilet che a noi interessa Dovrà andare in trafficante d'armi ragazzi Quando sarà in trafficante d'armi lì avrà tre voci Quindi sicuro serve difesa e non mi ricordo quale cazzo è l'altra voce Difesa e milizia scusate ragazzi Che hanno svariati giubbotti Allora questo qui ragazzi quello nero lo trovate in difesa mi sembra E quelli colorati li trovate in milizia Poi quando siete lì lo vedete insomma Quindi come vi dicevo questi qui color sabbia e di vari colori Sono in milizia nella voce milizia Quindi se volete salvare uno di questi dovete andare in trafficante d'armi voce milizia E salverete questo Noi andremo a salvare quello nero ragazzi Quindi in questo caso andremo in difesa E cercheremo questo giubbotto antiproiettile C'è anche in se diventate boss però è rosso cioè nero col giubbotto rosso A questo punto ragazzi il vostro amico si dovrà posizionare su congeda Vostro nome è congeda E voi dovrete contare 3 2 1 via Quando voi contate 3 2 1 Quando voi siete all'1 entrate pigiate la freccia E al via il vostro amico dovrà schiacciare congeda ragazzi Contate 3 2 1 via Uno pigia la freccia e un altro pigia il tasto per congedare In questo modo potrete salvare questo giubbotto Andate al vostro armadio e salvate il giubbotto Poi potete modificarlo come cazzo vi pare Tranne la parte superiore ragazzi Potete mettere un cappello Potete mettere non so Dei pantaloni Potete mettere una maschera Degli occhiali Quello che volete Anche dei bracciali Tranne la maglietta ragazzi La maglietta deve rimanere quella Altrimenti perderete il giubbotto Detto questo ragazzi Spero di aver accontentato l'iscritto Che aveva bisogno di sapere come si faceva questo glitch Come si otteneva questo giubbotto Vi lascio un saluto Spero che il video vi sia stato utile E vi sia piaciuto Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti